tanto il suo dolore quanto il suo rimorso divennero miti miti gli elementi di cui si componeva la sua vita erano gli stessi ma si erano attenuati quasi visti attraverso una lente fosca che li privasse di luce e di violenza una grande calma e una grande noia incombevano su lui aveva percepito con piena chiarezza quanto strana fosse stata in lui l'esagerazione sentimentale e al balli che lo studiava con qualche ansietà disse credendo ad essere sincero sono guarito poteva crederlo perché non si poteva pretendere che gli ricordasse esattamente lo stato d'animo in cui si era trovato prima di aver conosciuta angiolina la differenza era tanto piccola aveva sbadigliato meno e non aveva conosciuto l'impaccio doloroso che lo coglieva quando si trovava accanto ad amalia anche la stagione era molto fosca la settimana non si era visto un raggio di sole e perciò quando egli pensava ad angiolina associava nel suo pensiero la dolce faccia il caldo color dei capelli biondi all'azzurro del cielo alla luce del sole tutte cose che erano scomparse insieme dalla sua vita egli era però giunto alla convinzione che l'abbandono di angiolina fosse stato molto salutare per lui è preferibile ad essere liberi diceva con convinzione tentò anche di approfittare della riconquistata libertà sentiva e si doleva ad essere inerte ricordava che anni prima l'arte gli aveva colorita la vita sottraendolo all'inerzia in cui era accaduto dopo la morte del padre aveva scritto il suo romanzo la storia di un giovane artista il quale da una donna veniva rovinato nell'intelligenza e nella salute nel giovane aveva rappresentato se stesso la propria ingenuità la propria dolcezza aveva immaginato la sua eroina secondo la moda di allora un misto di donna e di tigre del felino aveva le movenze gli occhi il carattere sanguinario non aveva mai conosciuto una donna e aveva sognata così un animale che era veramente difficile fosse mai potuto nascere prosperare ma con quale convinzione l'aveva descritta aveva sofferto e goduto con essa sentendo a volte vivere anche in sé quel librido miscuglio di tigre e di donna riprese ora la penna e scrisse in una sola sera il primo capitolo di un romanzo trovava un nuovo indirizzo d'arte al quale volle conformarsi e scrisse la verità raccontò il suo incontro con angiolina descrisse i propri sentimenti subito però quelli degli ultimi giorni violenti e irosi l'aspetto ad angiolina che gli vide il primo incontro guastato dall'animo basso e perverso e infine il magnifico paesaggio che aveva contornato agli esordi loro idillio stanco e annoiato abbandonò il lavoro contento di aver steso in una sola sera tutto un capitolo la sera appresso si rimese al lavoro avendo nella mente due o tre idee che dovevano bastare per una sequela di pagine prima però rilesse il lavoro fatto incredibile mormorò l'uomo non somigliava affatto a lui la donna poi conservava qualche cosa della donna tigre del primo romanzo ma non ne aveva la vita il sangue pensò che quella verità che aveva voluto raccontare era meno credibile dei sogni che anni prima aveva saputi gabellare per veri in quell'istante si sentì sconsolatamente inerte e ne approvò un'angoscia dolorosa depose la penna richiuse tutto in un cassetto e si disse che l'avrebbe ripreso più tardi forse già il giorno appresso questo proposito bastò a tranquillizzarlo ma non ritornò più al lavoro voleva risparmiarsi ogni dolore non si sentiva forte abbastanza per studiare la propria inettitudine e vincerla non sapeva più pensare con la penna in mano quando voleva scrivere si sentiva arrugginire il cervello e rimaneva estatico dinnanzi alla carta bianca mentre l'inchiostro si asciugava sulla penna gli venne il desiderio di rivedere angiolina non prese la decisione di andarla a cercare sarà detto soltanto che ora veramente non ci sarebbe stato alcun pericolo a rivederla anzi se ci fosse voluto attenere esattamente alle parole che aveva detto lasciandola sarebbe dovuto andare subito da lei non era forse calma abbastanza per stringere la mano da amico comunicò questo suo proposito al balli e in questa forma vorrei soltanto vedere se riavvicinandola saprei contenermi da persona più accorta il balli aveva riso troppo spesso all'amore di emilio per non credere ora nella sua perfetta guarigione per di più da qualche giorno egli stesso aveva il più vivo desiderio di rivedere angiolina aveva immaginato una figura su quei ritratti e con quei vestiti lo raccontò ad emilio il quale gli promise che con le prime parole che avrebbe rivolte alla fanciulla l'avrebbe pregata di posare per il balli non vera da dubitare della sua guarigione ormai egli non era neppure geloso del balli parve poi che il balli pensasse ad angiolina non meno di emilio stesso aveva dovuto distruggere un bozzetto su cui aveva spesi sei mesi di lavoro anche egli era in un periodo d'esaurimento e non ritrovava in sé altra idea che quella nata la prima sera in cui emilio gli aveva fatto conoscere angiolina una sera lasciando emilio gli chiese tu non ti sei ancora ravvicinato non voleva essere lui a riunirli ma voleva sapere se emilio non si fosse rappattumato con angiolina a sua insaputa sarebbe stato un tradimento la calma di emilio era aumentata ancora tutti gli permettevano di fare quello che gli voleva ed egli in fondo non voleva niente proprio niente avrebbe cercato di rivedere angiolina perché voleva provarsi a parlare pensare con calore doveva venirgli dal di fuori il calore che gli non aveva trovato in sé e sperava di vivere un romanzo che non sapeva scrivere la sola inerzia gli impedì da andare a cercare la fanciulla gli sarebbe piaciuto che altri si fossero incaricato di riunirli e pensò perfino che avrebbe potuto invitare il balli a farlo tutto in tutto infatti sarebbe stato più facile e più semplice se il balli si fosse procurato da solo la modella e gliel'avesse poi consegnata come amante ci avrebbe pensato esitava soltanto perché non voleva concedere al balli una parte importante nel proprio destino importante angiolina rimaneva sempre una persona molto importante per lui in proporzione al resto se non altro tutto era tanto insignificante che la tutto dominava si pensava continuamente come un vecchio alla propria giovinezza era stato giovane quella notte in cui avrebbe dovuto uccidere per tranquillarsi se avesse scritto invece di arrovellarsi prima sulla via e poi altrettanto affannosamente nel letto solitario avrebbe certo rovinato la via dell'arte che più tardi aveva cercato in vano ma tutto era passato per sempre angiolina viveva ma non poteva più dargli la giovinezza una sera accanto al giardino pubblico la vide camminare dinanzi a sé la riconobbe al noto passo e la teneva sollevate le gonne per preservarle dalla fanghiglia e alla luce di un grammo fanale che gli vide rilucere le scarpe nere di angiolina ne fu subito turbato ricordò che al culmine della sua angoscia amorosa e gli aveva pensato che il possesso di quella donna gli avrebbe dato la guarigione ora invece pensò mi animerebbe buonasera signorina disse con quanta calma poteva trovare nell'affanno del desiderio che lo colse innanzi a quella faccia da bambino roseo con gli occhi grandi e dai contorni precisi che parevano tagliati allora allora e la si fermò afferrò la mano che le era stata offerta e rispose dieta e serena al saluto come sta è tanto che non ci vediamo e gli rispose ma era distratto dal proprio desiderio aveva forse fatto male a dimostrare tanta serenità e peggio a non aver pensato al contegno da seguire per arrivare subito dove voleva alla verità al possesso le camminò accanto tenendola per mano ma dopo scambiate quelle prime frasi da persone che sono liete di ritrovarsi e gli tacco esitante il tono elegiaco usato altre volte con piena sincerità sarebbe stato fuori posto ma anche un'indifferenza troppo grande non l'avrebbe portato allo scopo mi ha perdonato signor emilio disse lei fermandosi e gli porsi da stringere anche l'altra mano l'intenzione era stata ottima ed il gesto sorprendentemente originale per angiolina egli trovò sa che cosa io non le perdonerò mai di non aver fatto alcun tentativo per riavvicinarsi a me tanto poco ne importava di me era sincero e si accorse che gli cercava inutilmente di farla commedia forse la sincerità gli sarebbe servita meglio di qualunque finzione e la si confuse un poco e balbettando assicurò che se egli non si fosse avvicinato l'indomani ella gli avrebbe scritto da in fondo che cosa ho fatto e non ricordava ad aver chiesto scusa poco prima emilio credete opportuno mostrarsi dubbioso devo crederle disse poi un rimprovero come un ombrellaio la parola li fece ridere di gusto entrambi geloso esclamò lei stringendo la mano che continuava a tenere geloso di quel sudicio uomo infatti se egli aveva fatto bene a rompere la relazione con angiolina certo aveva avuto torto di cogliere a pretesto quella stupida storia con l'ombrellaio l'ombrellaio non era il più temibile dei suoi rivali e perciò ebbe lo strano sentimento che doveva imputare a se stesso tutti i mali che lo abbandonato angiolina e l'attacco lungamente non poteva essere di proposito perché angiolina sarebbe stata un'arte troppo fine e la taceva probabilmente perché non trovava altre parole per scolparsi e camminarono insieme uno accanto all'altra nella notte strana e fosca in cielo tutto coperto di nubi sbiancate in un solo punto dalla luce lunare arrivarono dinanzi alla casa di angiolina ed ella si fermò forse per prendere congedo ma egli la costrinse a procedere camminiamo ancora ancora così munti allora naturalmente ella lo compiacque e continuò a camminare tacendo a lui d'accanto ed egli la mò di nuovo da quell'istante e da quell'istante ne fu consapevole gli camminava accanto la donna nobilitata dal suo sogno ininterrotto da quell'ultimo grido d'anguscia che egli le aveva strappato lasciandola e che per lungo tempo l'aveva personificata tutta persino dall'arte perché ormai il desiderio fece sentire ad emilio di avere accanto la dea capace di qualunque nobiltà di suono o di parola oltrepassata la casa di angiolina essi si trovarono sulla via deserta e oscura chiusa dalla collina da una parte dall'altra da un muricciolo che la separava dai campi e la sedette ed egli si appoggiò a lei cercando la posizione che aveva preferita in passato durante i primi tempi del loro amore gli mancava il mare nel paesaggio umido e grigio imperò la biondezza di angiolina l'unica nota calda luminosa era tanto tempo che gli non sentiva quelle labbra calde sulle sue che ne ebbe una commozione violenta cara e dolce mormorò baciando gli occhi il collo e poi la mano e le vesti e la lo lasciò fare dolcemente e tanta dolcezza era talmente inaspettata che gli si commosse e pianse con sole lacrime poi con singhiozzi gli pareva che non fosse di peso da lui di continuare per tutta la vita quella felicità tutto si scioglieva tutto si spiegava la sua vita non poteva più consistere che di quel solo desiderio tanto bene mi vuoi mormorò essa commossa e meravigliata anche lei aveva delle lacrime agli occhi gli raccontò che l'aveva visto sulla via pallido e smunto sul volto i segni evidenti della sua sofferenza e si era stretto il cuore dalla compassione perché non sei venuto prima gli chiesero improverandolo si appoggiò a lui per discendere dal muricciolo e gli non capiva perché la troncasse quella dolce spiegazione che gli avrebbe voluto continuare in eterno andiamo a casa mia di sella risoluta e gli ebbe le vertigini e l'abbracciò e baciò non sapendo come dimostrarle la propria riconoscenza ma la casa di angiolina era lontana e camminando emilio si trovò intero con i suoi dubbi e la sua diffidenza se quell'istante l'avesse legato per sempre a quella donna fece le scale lentamente e tutta ad un tratto le domandò e volpini e la esitò e si fermò volpini poi risoluta superò i pochi scalini che la dividevano da emilio si appoggiò a lui nascose la faccia sulla sua spalla con un'affettazione di pudore che gli ricordò l'antica angiolina e la sua serietà da melodramma e gli disse nessuno lo sa neppure mia madre un po alla volta ricompariva tutto il vecchio bagaglio anche la dolce madre e la sera data al volpini costui l'aveva voluto l'aveva anzi posto a condizione per continuare i loro rapporti sentiva che non era amato mi svegliava angiolina e voleva una prova d'amore e se non aveva ottenuto in compenso altra garanzia all'infuori di una promessa di matrimonio fece con la solita sconsideratezza il nome di un giovane avvocato il quale gli aveva dato il consiglio da accontentarsi di quella promessa perché la legge puniva la seduzione in quelle forme così allacciati quelle scale non terminavano più ogni scalino rendeva angiolina più simile alla donna che gli aveva fuggita perché ora ciarlava incominciando già ad abbottonarsi ora poteva essere finalmente sua perché questo era detto e ridetto era per lui che la sera data al sarto a quella responsabilità non si sfuggiva più neppure rinunziando a lei ella aperse la porta e per il corridoio oscuro lo diresse alla propria stanza da un'altra su di la voce nasale della madre angiolina sai tu sì risponde angiolina trattenendo la risata mi colico subito addio mamma accese una candela e si levò il mantello e il cappello poi gli si abbandonò o meglio lo prese emilio poteva sperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente desiderata in quella memorabile sera egli poteva a credere ad essersi mutato ben due volte nell'intima sua natura era sparita la sconsolata inerzia che l'aveva spinto a ricercare angiolina ma erasi anche annullato l'entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare di felicità e di tristezza il maschio era ormai soddisfatto mani fuori di quella soddisfazione egli veramente non ne aveva sentita altra aveva posseduto la donna che odiava non quella che gli amava ingannatrice non era né la prima né come voleva dargli ad intendere la seconda volta che la passava per un letto d'amore non valeva la pena di addirarsene perché l'aveva saputo da lungo tempo ma il possesso gli aveva data una grande libertà di giudizio sulla donna che gli si era sottomessa non sognerò mai più pensò uscendo da quella casa e poco dopo guardandola illuminata da palli di riflessi runari forse non ci ritornerò mai più non era una decisione perché l'avrebbe dovuta prendere il tutto mancava di importanza ella l'aveva accompagnato sino alla porta di casa non si era accorta di alcuna sua freddezza perché egli si sarebbe vergognato di mostrarne anzi premurosamente gli aveva chiesto per la sera presso un altro appuntamento che l'aveva dovuto rifiutarli essendo occupata tutta la giornata fino a tarda notte dalla signora de luigi che le aveva commesso un vestito da ballo si accordarono di vedersi due giorni dopo ma non in questa casa disse angiolina subito arrossita dall'ira come può immaginare una cosa simile non voglio mica espormi al pericolo di farmi ammazzare da mio padre emilio assicurò che avrebbe provveduto lui alla stanza per il prossimo ritrovo gliel'avrebbe indicata domani con un biglietto il possesso la verità la bugia continuava spudorata come prima ed egli non scorgeva alcun modo per liberarsene nell'ultimo bacio dolcemente ella gli raccomandò discrezione col balli specialmente e la ci teneva la propria fama col balli emilio fu indiscreto subito la stessa sera parlò di proposito con l'intenzione di reagire alle menzogne ad anzolina senza tener conto delle raccomandazioni di lei integge certamente a ingannare lui e non a tenere all'oscuro gli altri ma poi sentì una grande soddisfazione di poter raccontare al belli d'aver posseduto quella donna fu una soddisfazione intensa importante che gli levò qualunque nube dalla fronte il balli lo state sentire da medico che vuol fare una diagnosi mi pare proprio di essere sicuro che sei guarito allora però emilio sentì bisogno di confidarsi e raccontò dell'indignazione che provocava in lui il contegno di angiolina la quale ancora sempre voleva fargli credere di essersi data al volpini per poter appartenere a lui subito la sua parola fu troppo vivace ancora adesso vuole truffarmi il dolore che mi fa di vederla sempre uguale a se stessa è tale che mi toglie persino il desiderio di rivederla il balli lo ingovinò tutto e gli disse anche tu resti uguale a te stesso non una tua parola denota indifferenza emilio protestò con calore ma il balli non si lasciò convincere hai fatto male male assai di riavvicinarti a lei durante la notte emilio poteva convincersi che il balli aveva ragione l'indignazione un'ira inquieta che avrebbe domandato un pronto sfogo lo teneva a desto non poteva più illudersi che quella fosse l'indignazione dell'uomo onesto ferito da un'oscenità e gli conosceva troppo bene quello stato d'animo si era ricaduto ed era molto simile a quello provato prima dell'incidente dell'ombrellaio e prima del possesso la gioventù ritornava egli non anelava più di uccidere ma si sarebbe voluto annientare dalla vergogna e dal dolore all'antico dolore sarà aggiunto un peso sulla coscienza il rimorso d'essersi legato di più a quella donna e la paura di vederne compromessa vie più la propria vita infatti come avrebbe potuto spiegare la tenacia con cui ella adossava a lui la colpa della relazione col volpini se non col proposito da torcigliargli si comprometterlo succhiargli lo scarso sangue che aveva nelle vene egli era legato per sempre ad angiolina a una strana anomalia del proprio cuore dai sensi nel letto solitario il desiderio era rinato e dalla stessa indignazione che gli attribuiva all'odio quell'indignazione era la madre dei più dolci sogni verso mattina il suo profondo turbamento sarà mitigato nella commozione per il proprio destino non si addormentò ma cadde in uno stato singolare d'abbattimento che gli tolse la nozione del tempo e del luogo gli parve d'essere ammalato gravemente senza rimedio e che angiolina fosse accorsa a curarlo e vedeva la compostezza e la serietà della buona infermiera dolce e disinteressata la sentiva muoversi nella camera ed ogni qual volta ella gli si avvicinava gli apportava refrigerio toccandogli con la mano fresca la fronte scottante oppure baciandolo con gli avibaci che non volevano essere percepiti sugli occhi o sulla fronte angiolina sapeva baciare così e gli si portò pesantemente nel letto e tornò in sé l'effettuazione di quel sogno sarebbe stato il vero possesso e dire che poche ore prima egli aveva pensato di aver perduto la capacità di sognare la gioventù era ritornata correva le sue vene prepotente come mai prima e annullava qualsiasi risoluzione la mente senile avesse fatta